Io quando vado a scuola il tempo non mi vola non so studiare bene come invece avviene quando sto a casa ho la tv, ho il mio pc, il frigo è pieno e quando io ho sete stappo il mio champagne per riposar scuola di presenza, scuola a distanza scelgo la seconda, anche se non sento più campanella ci sono le materie che piacciono tanto a me ma ce ne sono altre che invece mica entrano nella testa faccio una pausa, prendo tablette lo stereo appalla perdo un po' di tempo immaginando che sei qui con me scuola di presenza, scuola a distanza scelgo la seconda, anche se non sento più campanella la seconda, anche se non sento più campanella un posto da voce ooooh 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 ooooh